Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 9 febbraio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Amore e lavoro, c'è spazio per tutto. Cuore e testa, in questa giornata per quanto vi riguarda c'è spazio per tutto, la mattinata con la luna in capricorna abbracciata a Marte, fautore di passioni esplosive nel privato, ma guai a far trapelare oltre la camera da letto. A baci e carezze, però, potrebbero seguire anche urla ai vostri figli, disordinati e poco o nulla a scuola, testimone la pagella che vi hanno consegnato da firmare, proprio non vi somigliano, voi sempre così impegnati, attaccati al vostro lavoro, che vi dà soddisfazione, ma momenti difficili con invidie sotterranee e sfide indichiarate. A parlarne per voi la luna pomeridiana nella vostra sesta casa, dove transitano anche Mercurio intellettuale e Plutone stratega, se di nuove iniziative o rivolte non è dato a saperlo, ciascuno saprà da se e da che parte stare. Un rapporto che si basa esclusivamente sulla fisicità senza nessuna base di amore e di affetto. Nella coppia non c'è stima, c'è inganno, c'è rischio di essere ingannati. Attrazione fisica nel rapporto, un partner carismatico, magnetico ma che non ama. Inganni nella coppia, incertezze, trabocchetti di rivali, tradimenti, menzogne e bugie. Non scoraggiatevi oggi avete buone possibilità di fare colpo sugli altri e con una buona dose di successo anche sulle persone che vi interessano. Cercate di essere oggi più audaci e meno timidi, le occasioni vanno prese al volo e spesso danno delle grandi soddisfazioni. Ottime prospettive economiche per i nati dei luneddi. Il cielo per gli altri è ancora nervoso e non promette ancora niente di buono. Occorre avere pazienza. Prenderete delle ottime decisioni con il consiglio di una persona fidata, anche se potrà sembrarvi una decisione dolorosa, tuttavia quella che prenderete darà ottimi risultati. Il perdono sia la logica conclusione di vecchie storie, perdonando di cuore riceverete nuove forze ed energie. Il rancore favorisce solo l'influsso funesto di Mercurio e Marte facendovi vivere momenti di ansia e stress. Archiviate una storia che appartiene ormai al passato. Voltate pagina. Se qualcuno vi fa soffrire è inutile insistere, non cambierà mai. Fate bene ad affrontare a viso aperto ogni situazione, ci sono chiarimenti inarvio ma anche tante polemiche che risulteranno inutili. Se il passato vi perseguita, provate, una volta tanto, a lasciarlo definitivamente dietro le spalle. Provate, soprattutto, a recuperare fiducia in voi stessi, tanta, tantissima fiducia. Cercate mille ragioni per restare legati a un passato che non vi ha offerto molte possibilità di vivere un futuro migliore. Recidete ogni legame con il passato, il futuro sarà vostro nella misura in cui saprete allontanarvi dal passato. La dimensione familiare, quella che raccoglie amorevolmente nel clan tutte le variegate componenti del vostro parentado, è particolarmente centrale oggi. Riuscite ad essere un punto di riferimento per diversi componenti del vostro ambiente, tenendo in mano il timone della concordia. I numi celesti vi guardano sorridenti in questa giornata di metà inverno. In particolare la luna dal segno amico del capricorno specie se siete nati nella prima decade. Buona giornata per voi con tutte le stelle al posto giusto, in mattinata il binomio luna-marte in capricorno, segno di terra concreto ma sotto-sotto razionale, intrigono al vostro, entrambi i buoni amici di Nettuno, l'unico oppositore della giornata. Valido anche il pomeriggio col passaggio della Bianca Signora in Acquario, nel settore oroscopico numero 6, dove si parla principalmente di lavoro, natura e benessere, tutti quanti protetti dal vostro astro guida Mercurio e da Plutone ermetico e magnetico che accompagna gli altri inquilini della casa. Amore ed Eros, se nei riguardi del partner avete covato dubbi e sospetti toglieteveli dalla mente una buona volta, è pazzo di voi, vi adora e non ha nessun altro per la mente e tanto meno nel cuore. La sua aria svagata dipende da altro, forse problemi di lavoro oppure preoccupazioni riguardo alle sorti del mondo, peraltro condivise da molti. Un po' discoli figli, soprattutto nell'età ingrata, vi tengono test alzando la crestina senza capire che sono ancora pulcini e con la vostra autorevolezza dovranno mangiarne ancora di pane. Prima di potervi tenere testa. L'unione con il vostro partner va ora a gonfie vele, specie se appartenete alla terza decade del vostro segno. Un luminoso Marte è il paladino di una forza comunicativa, di una capacità di sapere esprimere i sentimenti che vi apre a una vita di coppia particolarmente radiosa e intensa. Anche Urano in toro ci mette del suo in questa fase così fortunata per voi, consentendovi di aggiungere un Eros decisamente vincente al vostro menage. La buona sorte tocca anche chi un fidanzato, moglie o un marito non ce l'ha e si vede piovere occasioni di corteggiamento a destra e a manca anche se l'età magari non è più così giovane. Lavoro e denaro? Impegnatissimi, ma questa non è una novità, siete gli stacanovisti dello Zodiaco e anche oggi ne date conferma tirando col vostro zelo tutta la squadra. Conoscete i segreti del mestiere e sapete parlare a tempo debito il giusto, non mezza parola di più. Tensioni e malumori sedati con intelligenza, il primo ingrediente del successo è la cooperazione, quando incominciano le lotte intestine si salve chi può. Serata piacevole, dopo la palestra c'è spazio anche per un corso culturale, una conferenza, una riunione tra amici, praticamente avete batterie inesauribili. Benessere. La vostra cura della salute è addirittura maniacale, ma a quanto pare il vostro impegno sta dando ottimi frutti. Vitali e instancabili rispetto all'età anagrafica dimostrate molti anni di meno, conferma che l'attività fisica funziona non solo per mantenersi tonici e pimpanti, ma anche per sostenere la mente che rimane sempre giovane, duttile quanto le articolazioni ben oliate dagli esercizi quotidiani. Per lei, conflitto interiore tra dovere professionale e voglia d'amore di disvago dando un calcio a tutto. Bigiare la vita è sempre bello, un giro di giostra sul cavallo di legno, la fantasia aiuta a sopravvivere e tenere duro. Per lui, benessere così così, a furia di parlare di malanni velli sentite tutti addosso. Colore delle emozioni, argento. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.